Nei primi tre mesi del 2015 in provincia di Como dovrebbero essere firmati oltre mille nuovi contratti di lavoro. Usare il condizionale è d'obbligo poiché si tratta di un dato di previsione, più precisamente di un'elaborazione di Senaf in occasione di Mexpe, fiera dell'industria manifatturiera in programma a Parma dal 26 al 28 marzo. Secondo lo studio, che prende spunto dai dati Excelsior Union Camere, nel primo trimestre 2015 si prevedono in provincia di Como, 1.110 assunzioni di dipendenti. Di queste, 350 pari al 32% riguardano l'industria, con contratti che saranno a tempo determinato per il 57%. Scorporando i dati relativi all'industria, risulta che delle 350 assunzioni previste, 180 pari al 51%, verranno assorbite da aziende metalmeccaniche ed elettroniche. Seguono le aziende tessili e calzaturiere con 90 assunzioni e le industrie di mobili. Il profilo più ricercato è quello di operai specializzati e conduttori di impianti e macchinari. Il 63% delle imprese richiede esperienza specifica, mentre per quanto riguarda il sesso, in 6 casi su 10, le aziende cercheranno un uomo.